Ripartire potrebbe essere il motto delle agenzie di viaggio a uno dei settori più penalizzati dalla pandemia. Dopo il blocco, la leggera ripresa di questo si è discusso in un incontro organizzato all'Aurum di Pescara dalla Fiavetta Bruzzo e Molise con il contributo della Università di Teramo, il settore turismo, dibattito moderato da Gioia Salvatore, il presidente e la vicepresidente Fiavetta, Davide Balloni e Annalisa De Luca. Noi abbiamo avuto un blocco totale delle attività in questi due anni, quindi abbiamo fatto grossi sacrifici, il personale in cassa integrazione, ancora parzialmente, adesso fino al 31 marzo era così, piano piano ripartiamo, però insomma abbiamo sofferto veramente tanto. Noi abbiamo avuto un blocco totale dell'attività. Adesso il cliente tipo e la destinazione tipo quali sono? Il cliente tipo dell'agenzia di viaggio è il viaggiatore e non il vacanziere, cioè per noi è quello lì che da una destinazione vuole acquisire delle esperienze, quindi vuole una guida professionale che gli spiega la destinazione. Ma c'è stata una lieve ripresa? Diciamo che dopo l'ultima ordinanza firmata da Speranza una ripresa c'è stata, legata soprattutto al fatto che in questo momento non bisogna fare tamponi per rientrare dall'estero, per cui i viaggiatori sono un po' più sereni. Al momento esistono ancora delle problematiche, chiaramente legate al Covid, perché ci sono dei piccoli focolai un po' in giro in Italia, ma anche all'estero, ma anche forse legato al problema della guerra, quindi la crisi in Ucraina fa sentire, si fa sentire e chiaramente i passeggeri sono un po' spaventati, anche se questo chiaramente non ha ancora, non rappresenta un vero e proprio problema. C'è l'altra problematica legata al caro fuel, quindi del carburante, che chiaramente mette un po' a dura prova anche le tasche degli italiani viaggiatori e degli abruzzesi in particolar modo. Gli abruzzesi, ma gli italiani in generale, hanno voglia di muoversi, di scoprire nuove mete e per cui, insomma, noi siamo fiduciosi. Italia o estero, quali sono le mete adesso più gettonate? Sicuramente l'Italia, perché diciamo che a livello sanitario ci sentiamo un po' più sicuri, ma anche l'estero, sono riaperte le frontiere dell'Egitto, la Spagna aperta già da un bel po', quindi diciamo in generale l'Europa, tranne chiaramente i paesi dell'est, che in questo momento rappresentano un po' un problema, ma per il resto, insomma, diciamo che quasi tutte le mete sono abbastanza riaperte, chiaramente rispettando quelle che sono le normative del posto.